Mia roccia, è la mia roccia. Tu sei stata, un anno e mezzo fa era appunto il tuo compleanno e ti stavi preparando per festeggiare con la tua famiglia. Sì, perché lui era ad Asti con Andrea e doveva appunto raggiungermi per poi fare una cena in famiglia e quindi doveva essere una giornata di festa, di compleanno, di gioia e poi improvvisamente tutto è cambiato perché poi la mattina non l'avevo sentito e dicevo strano che non mi chiama per farmi gli auguri, forse vuole farmi una sorpresa grande. Invece poi alle 14 del pomeriggio mi è arrivata una chiamata. Ti ha fatto la sorpresa? Sì, mi è arrivata la chiamata appunto con scritto Asti e io ho convinto che fosse lui da un telefono fisso e invece appunto era questa dottoressa dall'ospedale di Asti che mi ha chiesto appunto signora Tacconi, dobbiamo avvertirla di una cosa? Io non capivo, non mi sono sentita. Suo marito ha avuto un onorismo celebrale e io ho detto ma come sta? È gravissimo, è gravissimo. Io ho ancora il timbro di questa voce, una dottoressa che in realtà poi non ho mai più visto ma ho il timbro sempre in testa di questa frase che mi è arrivata così, come un fulmine. Grazie. 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 Grazie.